Benvenuti in news per te. Oggi torniamo a parlare di Fedez per due notizie, la prima molto spiacevole e la seconda invece tanto attesa dai suoi fan. Partiamo da quella molto spiacevole, ma prima di proseguire iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Fedez è nuovamente al centro di una controversia sui social. Nonostante i recenti problemi di salute e il successo della seconda stagione della sua docufiction The Ferragnez, realizzata insieme alla moglie Chiara Ferragni, ha fatto un'apparizione nel popolare programma comico Jalappa Show. Tuttavia, la sua partecipazione ha diviso il pubblico online, con molti utenti che hanno stroncato la sua performance. Alcuni hanno criticato la sua eccessiva presenza mediatica, definendolo megalomane e lamentando la scelta giovanilista del programma. Nonostante le critiche, Fedez sembra non preoccuparsi dell'attenzione negativa e continua a suscitare interesse e discussioni intorno a sé. Anzi, è il momento della notizia tanto attesa dai fan. Recentemente ha condiviso annunciando con un sorriso luminoso oggi mi hanno rilasciato il certificato medico per partecipare a X Factor. Sto molto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi. Quindi, per tutti coloro che si chiedevano se avrebbero potuto rivedere Fedez nella giuria, la risposta è un netto e festoso sì. Il 26 ottobre 2023, i fan potranno gioiosamente riabbracciare il cantante nel suo ruolo di giudice nel talent show più amato d'Italia. Questa notizia ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i suoi sostenitori, che non vedono l'ora di vederlo di nuovo in azione sul palco di X Factor. Voi siete tra questi? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere altri video.